E' un uomo! Inviterei i nostri amici The Jackal, Fabio e Ciro E' più facile a farsi che a dirsi questo gioco, perché praticamente prenda un biscotto Facile? Esatto, deve prendere questo agglomerato farinacido, porlo qui sulla parete anteriore cranica E' attraverso la contrazione dei muscoli facciali far cadere il suddetto all'interno del caporale Insomma, nell'esofago Ma c'è un biscotto, capito? E io che cosa ho detto in italiano? No, no, così, lo deve poggiare sulla fronte Attraverso la contrazione dei muscoli facciali e farlo cadere in bocca Va bene? Ci provo 3, 2, 1, via! E' facile, fai, fai E' ci siamo! Ho capito! Un altro tentativo, un altro tentativo Allora, questo a scendere è facile, a già parte E' difficile, è facile fare un scendolato, basta fare... Perché muove il mento? Perché muove il mento? Perché il biscotto è sulla fronte? Un attimo solo, che ce la faccio Questo sia l'unico modo per dimagrire Eccolo! Dai, 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 ti devi agli qua! Provi ad aiutarci con lo zico Ci hanno l'agglomerato Di piccolo... Di qua biscottini, biscotti Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai con la ponte! Vai, vai! Vai! Sono venuto a me, è proprio il più bello! Terzo tentativo, forza! Tagga tutto il biscotto da un uo! No, ce la stavi facendo! Terzo tentativo! Posso dire che lingua, signore? Che uso sapete della lingua? C'è del linguismo, c'è del linguismo Guarda con quale espressione... Fai la smolfi... Vai, bravo, bravo! Sapete perché non ci riesco? Perché ho le piccole nell'occhio Le posso chiedere una cosa? Sì! Come lei è molto brava? Attenzione! Sì! Sì! Stai scendendo il discotto! Scendo! Pino, pino! Pino, pino! Pino, pino! Pino, pino! Pino, pino! Pino, pino! Peccato perché bastava abbassare la naserchia! La naserchia! Lei faccia il cronista di questa azione, prego! Ed ecco che il biscotto poggiato sulla fronte scende e scivola verso il naso e Ciro che continua con le sue smorfie, come solitamente fa quando sta con le ragazze, per curare l'attenzione! Il biscotto è in piccolo sulla naserchia! La naso, su un naso! Ci posso riuscire, ci posso riuscire, ci posso riuscire, ci posso riuscire! Secondo tentativo, secondo tentativo, il biscotto è poggiato sulla fronte, lo fa scivolare sul dorso della naserchia, ecco che a coprire l'occhio ci gira la faccia! Zicomo, zicomo, zicomo! Zicomo, zicomo! Allora... Bravo! Bravo! Fabio, vuoi riprovare? Sì, molto volentieri! Maestro, può... Ma ecco che Fabio ci riprova! Ha poggiato il biscotto sulla fronte! Però vorrei dire una cosa, maestro, io non muovo proprio... Ho capito il collo, guardate! Sì, bravo! Lui lavora di masticazione, di mascella! Ed ecco che con l'occhio clinico a coprire il biscotto che gli copre l'occhio! Non è che così è una che no, si è biscottato l'occhio! Ma comunque continua con l'espressione... Ah, facciamo l'occhio! E' per colto! Vincere Ciro! Stasera tutto è possibile! Tornata! E' per colto! E' per colto! Grazie a tutti.